blitz contro blitz over e adesso aspettiamo gli anti italiani che vengono a togliere anche questo io parto vado a roma all'ambasciata indiana chiama il sindaco che ieri ha detto che nemmeno l'aveva visto abbiamo fatto un altro blitz doveroso a figgere questo manifesto per i marò per esprimere solidarietà ai marò ribadisco l'amarezza anche degli altri candidati delle primarie spalletta uomo di destra che non ha pronunciato una parola per i marò il sindaco di tommaso mastro santi e rossetti